Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati. Apriamo questa nuova edizione parlando di un problema che sta colpendo la Sicilia, ovvero quello legato alla siccità, una situazione che il presidente Renato Schifani ha definito drammatica. Non a caso la Sicilia chiede lo stato di emergenza nazionale. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Il governo Schifani ha chiesto lo stato di emergenza nazionale per la crisi idrica. Una decisione presa nel corso dell'ultima giunta in conseguenza a lungo periodo di siccità e alla rilevante riduzione delle riserve di acqua in tutta la Sicilia. L'obiettivo del provvedimento, che adesso dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri, è quello di garantire acqua potabile ai cittadini e l'approvvigionamento idrico ai settori agricolo e zootecnico, oltre che alle imprese impegnate nei cantieri dell'isola. La siccità in Sicilia sta diventando drammatica, dice il presidente Renato Schifani. La regione ha messo in campo una serie di azioni per mitigare la crisi, aiutando i settori produttivi e limitando i disagi ai cittadini. Ma servono anche urgenti interventi statali per operare su reti e sistemi di approvvigionamento idrico e per sensibilizzare i cittadini a un uso più razionale della risorsa. Inoltre, sono necessari sgravi fiscali e contributivi, moratori e sospensione di adempimenti per le imprese del settore agricolo e zootecnico, che sono in gravissima difficoltà. Una relazione della protezione civile regionale indica interventi a breve e a medio termine per mitigare la crisi, che prevedono la riduzione dei consumi delle utenze idropotabili, interventi sugli invasi, campagne di informazione e sensibilizzazione per il risparmio, interventi per reperire risorse alternative, acquisto di autobotti e silos per la distribuzione in luoghi pubblici, utilizzo di pozzi e sorgenti, riparazioni di reti idriche, ammodernamento degli impianti di dissalazione nei siti dismessi di Porto Empedocle, Paceco-Trapani ed eventualmente anche Gela. Il costo delle azioni a breve termine è di 130 milioni di euro, mentre di quelle a medio termine è di 590 milioni di euro. E a proposito di siccità e quindi di emergenza idrica, a Palermo è scattato il piano d'emergenza. Vediamo il servizio. Le riserve disponibili per la distribuzione idrica nelle reti dei 47 comuni affidati in gestione ad Amap, che avevano raggiunto già dall'inizio dell'anno corrente livelli di allerta, non hanno subito miglioramenti, per effetto delle modeste precipitazioni che si sono verificate tra fine febbraio e inizi di marzo. Lo dice la società di gestione dell'acquedotto palermitano, che annuncia dal 5 aprile un abbassamento della pressione nelle condotte, per garantire l'acqua fino al prossimo inverno. Situazioni di particolare criticità si registrano nei serbatoi Scanzano, Piana degli Albanesi, Poma e Rosa Marina, in cui si registra una diminuzione dei volumi complessivi superiore al 50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Abbassamenti continuano a registrarsi anche nei livelli delle falde idriche sotterranee di tutta la provincia, con riduzione delle portate rese da sorgenti e dei pozzi, dice l'Amap. La società è in continuo contatto con il commissario delegato per l'emergenza idrica nel settore potabile, con cui ha condiviso un piano di razionamento delle risorse prelevate dagli invasi che avrà inevitabili conseguenze sulla distribuzione idrica nelle reti dei comuni gestiti. Il piano è una misura necessaria per fare in modo che i volumi sinora immagazzinati possano consentire l'alimentazione delle reti fino alla prossima stagione invernale, afferma l'Amap. Per quanto riguarda Palermo, per cui erano già state individuate delle zone in cui sono state operate delle lievi riduzioni di pressione già dalla metà del mese di gennaio, verranno attuate, a partire dal prossimo venerdì 5 aprile, ulteriori e più consistenti riduzioni della portata immessa in rete con conseguenti diminuzioni delle pressioni d'esercizio. Tali misure potranno comportare in alcuni punti dei distretti interessati anche l'assenza di erogazione durante gli orari di massimo consumo. Non sono da escludere, conclude l'Amap, misure più restrittive, qualora necessarie, in dipendenza delle condizioni che si instaureranno nei prossimi mesi. A Giardini Naxos invece commercianti e cittadini protestano per i lavori sul lungomare, lavori che stanno richiedendo tempi davvero biblici. Mauro Romano ne ha parlato con l'esponente del Comitato di Sud Chiama Nord, Giuseppe Leotta, sentiamolo. Ci troviamo sul lungomare di Giardini Naxos con il rappresentante del Comitato Ecologia Integrale di Sud Chiama Nord. Quali sono le problematiche che sono emerse in questi giorni, Giuseppe Leotta? Sì, siamo qui stasera per dare voce alle tante preoccupazioni dei cittadini che in questi giorni ci hanno scritto su alcune fattispecie che riguardano il lungomare di Giardini che è il nostro salotto e che dovrebbe essere il biglietto d'ingresso che noi forniamo ai tanti turisti che cominciano a visitare le nostre coste. Ora, diciamo che tante scelte nei lavori di riqualificazione del lungomare ci lasciano un po' perplessi. Ci permettiamo infatti di suggerire, perché sembra che i lavori di sostituzione delle mattonelle dovranno continuare fino alla fine di maggio, ci permettiamo invece di suggerire che forse sarebbe opportuno concentrare le forze della ditta incaricata sulla necessità di finire la piazza che sta alle nostre spalle, la piazza Calchis che non può assolutamente essere lasciata alle porte della stagione turistica in questo stato e la vicina piazza San Pancrazio. D'altronde i lavori di sostituzione delle mattonelle possono benissimo essere completati anche dopo questa stagione turistica. Tra l'altro, poco più avanti, c'è stato un importante restringimento della strada che obbliga i cittadini per passare a transitare in mezzo alla gareggiata, in mezzo alle macchine in spregio di qualsiasi norma per la sicurezza. Questo, in più vorrei anche aggiungere due cose importantissime. C'è anche un problema con una voragine, poco più avanti di dove stiamo parlando. Non si sa per quale motivazione questa voragine si è formata, forse una perdita idrica. Comunque anche questa è una situazione che andrebbe assolutamente risolta prima dell'inizio della stagione estiva. E poi un'altra cosa che i cittadini ci hanno lamentato molto in questi giorni è che il lungomare in questo momento è al buio. Quindi la sera le persone che passeggiano, passeggiano sostanzialmente al buio. Questo ci dà anche l'opportunità di riprendere il tema dell'energia perché noi continuiamo a ripetere ormai da settimane inascoltati la necessità di investire profondamente su questo tema, sul tema dell'energia. Avevamo anche offerto la soluzione al progetto di finanza, il progetto di financing, ma in questo caso, nel caso del lungomare, tra l'altro la ditta incaricata ci risulta che da capitolato debba realizzare anche l'illuminazione. Quindi magari forse sarebbe il caso che si concentrasse su questi aspetti piuttosto che su altri. Mancano anche i cestini nella parte che è stata aperta alla fruizione pubblica. I cestini di raccolta dell'immondizia si verificano degli scenari veramente inconcepibili in questi giorni. Sì, diciamo che questo favorisce purtroppo la brutta pratica da parte di molti di buttare le cartacce o le bottiglie vuote direttamente sull'arenile. E questo contribuisce a offrire un'immagine non proprio positiva della nostra cittadina. Quindi magari che anche questi dettagli venissero curati prima che la stagione entri nel vivo, ormai manca davvero pochissimo. Il Vescovo di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti, in visita a Castiglione di Sicilia al Museo Religioso Diffuso. Vediamo il servizio. Nelle festività pasquali, il Vescovo di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti, ha compiuto una significativa visita al Museo Religioso Diffuso di Castiglione di Sicilia, inaugurato lo scorso dicembre. Questo museo offre un itinerario turistico e sacro che abbraccia in particolare quattro siti. La cripta San Leonardo, l'antica torre normanna della chiesa San Pietro, la chiesa Museo Sant'Antonio Abate e la basilica San Giacomo e Madonna della Catena. Il progetto, finanziato con fondi delle aree interne della regione siciliana e convertito in bando dal comune di Castiglione di Sicilia, grazie ad un importante investimento da parte della parrocchia, ha dato vita al museo itinerante, che ha già registrato l'entusiasmo di centinaia di visitatori in pochi mesi. Durante la visita, il vescovo, accompagnato dai commissari i prefettizi straordinari del comune, ha ammirato le bellezze storiche del borgo, considerate testimonianza di una fede laboriosa tramandata dagli antichi padri di Castiglione. La cronaca partendo da Palermo è da un nuovo blitz antidroga dei carabinieri, blitz che ha portato all'arresto di 12 persone, sequestrati anche 20 chili di sostanze stupefacenti. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Nuovo blitz antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Palermo. 12 persone sono finite in manette con un cospicuo sequestro di quasi 200 piante e 20 chili di sostanze stupefacenti. I militari della compagnia di Piazza Verdi hanno tratto in arresto tre persone, tutte ritenute responsabili di detenzione e spaccio di droga. A Ciaculli, gli uomini dell'arma hanno effettuato una perquisizione a casa di un 32enne, già noto alle forze dell'ordine, rinvenendo una piantagione con 25 piante circa di cannabis e quasi 10 chili di marijuana già essiccata e pronta per la vendita. La coltivazione, corredata di lampade e di un sistema di aereazione e irrigazione, era abusivamente collegata alla rete elettrica. Per il 32enne è scattato l'arresto. Nei pressi della stazione centrale, con l'intervento di una unità cinofila del nucleo di Palermo-Villa Grazia, i carabinieri hanno arrestato un 22enne palermitano trovato in possesso di oltre 50 grammi di hashish. Inoltre, durante la perquisizione nei vani comuni del suo condominio, in un locale sottoscala, sono stati recuperati oltre 5 chili di fumo. Un altro 22enne palermitano allo Sperone è stato arrestato perché trovato di notte per strada con numerose dosi di crack, cocaina e hashish, oltre a circa 160 euro in banconote di piccolo taglio. Nella chiesa sconsacrata di San Nicolò da Tolentino, in via del Bosco, nella zona di Ballarò, i carabinieri hanno individuato una serra indoor di cannabis con circa 70 piante, alte oltre un metro. Un rudimentale sistema di irrigazione, illuminazione e aereazione era collegato abusivamente alla rete elettrica comunale. I militari del nucleo radiomobile di Palermo, in tre diverse situazioni, hanno arrestato sei persone, tutte palermitane e già note alle forze dell'ordine con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, i militari hanno effettuato un controllo presso l'abitazione, nel quartiere Zen 2, di un 36enne ristretto agli arresti domiciliari, trovandolo in compagnia di altre tre persone in un'area di pertinenza della casa. Alla vista dei carabinieri, i quattro hanno tentato di darsi alla fuga, ma sono stati fermati e identificati, accertando, nel punto dove si trovavano, la presenza di una coltivazione indoor di 100 piante di cannabis, alte circa 70 centimetri e 9 chili di marijuana essiccata e pronta per l'introduzione nel mercato clandestino. Anche in questo caso, la piantagione era collegata abusivamente alla rete elettrica. I quattro indagati sono stati tratti in arresto. Ancora il nucleo radiomobile ha arrestato per strada due pusher, uno allo Sperone e l'altro nei vicoli del mercato di Ballarò. Entrambi erano in possesso di diverse dosi di cocaina e hashish e di oltre 300 euro ritenuti di illecita provenienza. La compagnia di Palermo San Lorenzo ha effettuato numerose perquisizioni e arrestato tre persone, tutte ritenute responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tutti gli arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo. Spaccio di droga anche a Catania. Un nuovo arresto nel quartiere San Cristoforo effettuato dagli agenti della Polizia di Stato. Si tratta di un 28enne pusher, ma per tutti i dettagli vediamo il servizio. Gli agenti delle volanti nel transitare per via Colomba hanno notato un catanese di 28 anni, già loro noto, il quale, alla vista dei poliziotti, si è avvicinato rapidamente a un portone tentando di disfarsi di un involucro che teneva in mano, cedendolo a una donna. Quest'ultima è stata immediatamente bloccata e identificata. All'interno dell'involucro era stata nascosta della sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo crack. Anche il giovane è stato poi sottoposto a controllo, nel corso del quale sono stati rinvenuti 70 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Persino durante il controllo, il 28enne ha tentato di disfarsi di un ulteriore involucro, ma gli agenti lo hanno recuperato scoprendo che conteneva sostanza stupefacente, verosimilmente crack e marijuana, suddivisa in 11 bustine in cellofan. Tutta la droga rinvenuta e il denaro sono stati sottoposti a sequestro, mentre il pusher è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui, ma ovviamente ci ritroviamo più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia. A dopo. Notizia 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 Notizia